pronto e se mi lasci lo sai che non vale e se mi lasci da ieri tu che non vale melino forza con Samuazzo per il forno pronto buongiorno ma perché sta facendo questo? io l'ascolto pronto non devo urlare siamo in diretta dal cantiere ma siamo in diretta qua dalla Catano lo possiamo combinare dopo pronto non c'è una vita una canzone buona per noi altri che non bastare una camolazza che non mi fanno un sestegato che canzone era quella di prima? qui era chi? alicia e chi? chi era? alicia e chi? alicia e chi? qui era chi? qui era chi? è una grande artista internazionale ma come si chiama? così si chiama alicia e chi? chi? come si chiama? melino si chiama alicia come mascolina no no ma come è chi? c'è da mettere canzone dalle aree cose che si capiscono melino a scuola non ci aiuto melino aiuta a scuola ma che sta facendo melino? non bastando con la mulazza io non basta solo io lui ha detto di prima alla mulazza io do mulazza non ne può lasciare e qui è lui che fa la richiesta è me che la trasmetto a voi ho capito ora lui volesse ascoltare canzoni che ne so Massimo Ranieri e che sta Gianna Morandi il neguolo del padre pepino cagliato canzoni nostri cose di noi moratori culio ce l'ha culio? culio si c'è però oggi abbiamo selezionato un'altra cosa melino oggi senza culio va bene va bene va bene che cosa abbiamo? un bel pezzo di Massimo Ranieri un pezzo solo non ce la potevo mettere Sara tutta la discografia un pezzo solo non la canzone con Sara ce la potevo mettere un pezzo che non a fare un pezzo inteso come canzone melino ce la mettono Sara qual è? qual è? quando l'amore diventa poesia troppo bellissima melino da ruoti io ti amo automaticamente troppo bella ci fa pure il live grazie arrivederci 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 pronto? ti respiriamo l'aria finché la primavera svegliatevi bambine pronto? buongiorno come siamo con me tutto bene tutto bene melino melino non ti testare con il testamento a casa radio io come cosa state facendo? che stiamo fanno qua il sestiato stiamo fanno il sestiato bella questa canzone è la primavera ma sempre sestiato fate e respiriamo l'aria in che è la primavera e svegliatevi bambine ogni tanto a mascare la mia canzone no? sta facendo un megamix stiamo fanno un megamix si si melino fai un premix dopo metteci un premix un premix facciamo noi un megamix c'è un'altra cosa un premix si è che lo che si è fattato a fare capito no? ha capito? no ma stiamo in canale andiamo a giocare che potevo fare movimento ma stia attento stia attento ci puoi mettere le canzoni meno movimentate piaccia c'è jenzo jenzo che balla jenzo ma non dovrebbe ballare la sopra jenzo c'è via c'è la musica capito? ho capito però sul ponte la sua cura che è in bia c'è abbiamo manipolato cosa perché è un savaggio jenzo si è un savaggio si è un savaggio dei gravi ce l'ha un pezzino dei gravi un culio ce l'ha un culio si si abbiamo anche quello e allora che ho dato che fa aspettiamo un culio ma certamente raccomando non troppo movimentata che non caccaienza a palla jenzo se è un savaggio si che è un savaggio è un savaggio e allora aspettiamo un culio va bene avanti ci sentiamo più tardi attaccamo lazza che è un culio arriva più tardi arrivederci arrivederci